L'Associazione di Promozione Sociale Noi per la Salute di Nanselmi organizza un'assemblea cittadina che si terrà mercoledì 1 febbraio alle ore 18 presso la Casa delle Culture del Volontariato. Durante l'incontro si parlerà dell'incontro avvenuto dal presidente Giuseppe Pastorello con l'assessore regionale della salute Giovanna Volo e si presenterà il programma annuale di lavoro che l'associazione intende svolgere. Avremo la possibilità di mettere a conoscenza dei partecipanti sia i contenuti del colloquio che abbiamo avuto il 14 gennaio con l'assessore regionale alla salute alla quale abbiamo esposto alcune problematiche della nostra provincia problematiche sanitarie ma al contempo alla quale abbiamo anche proposto delle soluzioni operative che anche il giorno 1 febbraio avremo il piacere di mettere a conoscenza diciamo dei partecipanti e al contempo in questa assemblea cittadina affronteremo anche e illustreremo il nostro programma di lavoro per il 2023 che sarà certamente un programma incentrato su quelle che sono le maggiori problematiche sanitarie della provincia e per ciascuna di queste avremo anche il piacere di proporre delle soluzioni operative e comunicheremo anche l'entrata in funzione di uno sportello e di un centro per l'ascolto con il quale abbiamo l'intenzione di accogliere tutte quelle che sono le necessità i bisogni dei cittadini in termini di assistenza sanitaria affinché possiamo dare un nostro contributo nel assistere gli stessi nel percorso di salute che dovessero avere necessità di perseguire